Prova, prova, prova! Ciò pala galena, ciò pala galena! Ciò pala galena! Ciò pala galena! Ciò pala galena! Giusto? Giusto! Sì! Andiamo subito a conoscere le voci che comporranno questa fantastica melodia! Lei è... Giulia! Lisa! Andrea! Lo compongo nella prima fila, ma anche Dora e Mì dietro lo troviamo, segue... Non poteva mancare... E ci siamo, perfetti ragazzi! E allora con questa carica e con questa energia, vediamo l'ora di sentire la vostra fantastica voce inglese! Non lo so io! Ha fatto un'altra cosa! No! 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 When you're ready and today it's a free ride When you're already paid it's a good advice It's what you're just late and day For who order not hit the girls The reason such an afraid save, wasn't afraid to fly e fa' questo suo suo caso, e il suo caso è di via per questo tutto il mio vita per prendere quella voce e per la sua gloria e per la sua gloria e pensi che è niente, 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 ironico non pensi che è come la grazia? e il giorno è libero quando hai già pagato è un buon consiglio che non ti sia mai che non 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 sia mai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti